ho i miei questa è questa la storia la storia io pure nemmeno a metterlo ma come spesso quando avevo vent'anni quando pioveva così pioveva e pioveva molto male vedi il passo che ero la mia cittura è una rotta moda io pigliavo e partivo e poi io io pigliavo e partivo io pigliavo e partivo io pigliavo io pigliavo io pigliavo io pigliavo io pigliavo allora che è oltime va che è l'uomo vedi ho vedi la sua proposta vedi vedi Grazie a tutti. Grazie a tutti.